Blocco dei diesel Euro 5 nei comuni con più di 30.000 abitanti e l'uso dell'intelligenza artificiale per gestire il traffico e i semafori. Queste sono solo alcune delle misure più significative dell'aggiornamento del piano di qualità dell'aria avviato dalla regione Piemonte per combattere lo smog. Un piano dal valore di circa 4 miliardi di euro con un periodo di attuazione di 6 anni fino al 2030. In particolare 2,9 miliardi sono destinate misure sulla mobilità e trasporti, 421 milioni per il settore energia, 153 milioni per le attività produttive e 334 milioni per l'agricoltura. Dopo un primo step del passaggio in giunta metà giugno il documento era stato deliberato per essere sottoposto a una valutazione ambientale strategica durante i prossimi 45 giorni. Ultima tappa il mese di settembre quando il report dovrà essere nuovamente adottato dalla giunta e approvato dal Consiglio in linea con i tempi previsti dal decreto approvato dal Governo a settembre 2023. La scadenza data in quel momento era di 12 mesi. Nella pratica cosa comporterà questo piano? Innanzitutto il blocco dei veicoli diesel Euro 5 dal 1 ottobre 2025 nei comuni con più di 30 mila abitanti insieme all'introduzione da parte delle città di ulteriori limitazioni in caso di sforamento delle soglie previsse dalla normativa europea. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile saranno poi sviluppati progetti per nuove aree pedonali, i bus e i treni più inquinanti verranno sostituiti con nuovi mezzi di alimentazione green. Si parla anche di un progetto sperimentale per l'uso del biocarburante per i veicoli del trasporto pubblico locale. Il piano comprende poi il potenziamento del servizio ferroviario metropolitano e della rete ferroviaria, previsti anche incentive e trasporti gratis per gli studenti Under 26. Sempre in ambito green verranno ideati interventi di forestazione verde urbano, più alberi per contrastare l'inquinamento, anche quello acustico. Tra le misure più innovative i semafori regolati esigenza artificiale per una migliore gestione del traffico. La regione Piemonte avvierà su questo punto alcune sperimentazioni locali per poi estendere l'applicazione alle città con più di 30.000 abitanti. Come testimonial report, secondo Arpa, nell'intero territorio della regione Piemonte le emissioni di PM10 sono generate per oltre il 50% da riscaldamento, che quindi diventa il nemico numero uno da combattere. La risposta si tradurrebbe in incentivi per la sostituzione di vecchie stufe con impianti a biomasse di nuova generazione, offerti anche incentivi per la manutenzione e per promuovere tra la cittadinanza buone pratiche antinquinamento. A questo processo dovrà partecipare anche il mondo dell'industria. In particolare, 43 milioni di euro sono destinate all'efficientamento energetico delle imprese e altri 48 alla diffusione delle energie rinnovabili. È previsto lo sviluppo di tecnologie di abbattimento delle emissioni, processi di economia circolare e di decarbonizzazione anche nelle attività agricole. Nell'agricoltura e nella zootecnica, per esempio, verrà favorito l'uso di concimi naturali. Obiettivo del piano è quello di ridurre la concentrazione inquinante per rispettare gli obiettivi di qualità dell'area delle direttive comunitarie per il 2025 ed essere in linea con le direttive proposte dall'OMS per il 2030.